Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Xenoverse 2 Hero Colossium Con i due ragazzoli, Joseph the Gamer e Tuberanza, ciao ragazzi Ciao ragazzi, bentornati Ciao ragazzi, ciao Ma che è questa... E fai così, scusate, ce l'ho fatta, non risentere! Fai così Ciao ragazzi, ciao Ragazzi, oggi torniamo di nuovo alla ricerca delle nuove miniature, devo fare una intro tra le minuti Va bene, a me manca solo toppo e piccolo A voi cosa manca? A me manca... La dignità, la dignità, lo dico io per Joseph, tranquillo No, vabbè Gianfra, ma perché devi esagerare sempre? Esagerato, vabbè, 3, 2, 1, via Ma come 3, 2, 1, via, che non sto manco subito? Vabbè, che me ne frega se tu non ci stai, scusami Fai trovare impreparato, con le braghe calate, calumbrati No, sei tu che ti fai trovare impreparato, se ti dico cosa manca? E' ovvio che devi dire la dignità No, 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 la tua Raga, raga Questa capsula dell'incredibile Gogeta Super Saiyan Blue UR Raga, le prime 3 miniature Sono 3 Ribrienne E poi ti arriva il Gogeta UR nuovo? Esatto No, il Gogeta UR è vecchio Gogeta Blue, Gogeta Blue ha trovato Blu, 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 bello, bello Va bene, raga, io ci sono Quando volete ve lo faccio smr subito per partire Vai, 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 faccelo, faccelo Scaldaci il cuore, vai 3, meno 2, fa 1, via Via, Mirko Eh, fratelli Ma infatti io tra poco abbandono il video Vado un attimo da un'altra parte No, no Vabbè, ragazzi, basta No, ragazzi, basta Un altro Vegeta Super Saiyan Blue è evoluto nuovo No, raga, basta Non ci credo, non ci credo Raga, raga, no, raga, ve lo giuro su mia madre No, ragazzi Raga, ve lo giuro su mia madre Cioè, raga, non è possibile Ragazzi Raga, sto trovando solo Vegeta Blue Ma quanti ne sta trovando? Ma, ma, perché voi Voi mostrate vedere sto video Ma voi dovevate vedere i precedenti Ma ne avrò trovati 5, tipo Ja, ragazzi, se avete visto i precedenti Sapete che Mirko c'era, io, non è possibile Ma non esulto più nemmeno, raga Non esulto, perché non c'è un cavolo da esultare Quando ne trovi così tanti Perché ti è talmente tanto scontato Che non esulti Non parole, va bene Va bene, va bene, va bene Raga Non solo non hai parole Ma non c'hai neanche piccolo Giosef, conta tu 3, 2, 1 Vai Vai Vi ad urlare, ad urlare Ho perso la voce un'altro po' Ah, ho capito È anche però il sesto video che registriamo Eh, questo, sì Cioè, voglio dire Uh, Vegeta Blue è voluto nuovo Ma vai, vai esulta Sì Ma, ma, ma Cioè, fallo esulta, poverello Cioè, ci stai Eccolo Il suo sogno bagnato Ce l'ha fatta Ce l'ho fatta Lo volevo Invece è W voluto Va bene, va bene Ci sta, sono contento Sono contento Che perlomeno non sono l'unico Che lo trova Ah Va bene Va bene Va bene Io sono pronto Mirko conta tu Almeno mi hai portato fortuna D'altre volte 10 Meno 10 Valore di Giosef Via No Ottimo, questo mi piace Vai Vai, vai, vai Questo no Non ti dici Ragazzi, mi raccomando Vi ricordo il like Vi ricordo il like Se vi piacciono questi video Se ne volete altri Astagio vero Sayan E soprattutto lasciate Un fottutissimo like Ma chi è che dici così? Lo dicevo io Fino a un paio d'anni fa Oh, Gianfranca è rimasto Un paio d'anni fa Ma come devo fare con Gianfranca? Ah, non lo so, fratello Mi fa la caricatura a me Ragazzi, vai quando volete Conto io, conto io Oh, cliccate sul fottutissimo sì E dico tre Ma la volete finì? E dico due E dico uno Via Via Ma perché erano fottutissimi Quella... Cioè, perché? Eh, buh Mi casavo, no, sai La testa gli diceva in quel modo Paiquan SR Cell Junior Mannaggia Che folle che gioco Che è la gamba aperta Che... No, cioè Eh, mamma mia No, è per dire Che le ha divaricate Come si dice? Demonetizzazione viene a me Giuseppe, meritai tu Sal tipo dopo... No, Gianfranca A me non hai niente Già ti sei preso la mia dignità Più di questa Ragazzi, io devo libera di continuo Raga, ma non gliela faccio Eh, ma perché tu trovi troppa roba Calma Eh, ma che devo fare? Andiamo avanti Ma che ce ne fottano Sì, poi vi recupero magari Che devo fare, raga? Vuoi mandare? Giuseppe, che dici? Ma che ce ne fottano? Andiamo Vai, vai Andiamo Ma non lo facciamo giocare proprio Vince sempre Trovo sempre tutte le migliori No, come vince sempre? No Non iniziate a darmi sta nomina Di quello che vince sempre Perché mi offendo, eh? Sì, in maniera immotivata E ingiustificata E immeritata E poi ce la siamo divisa Cioè, Joseph era partito proprio Joseph, la tua play sembrava veramente essere diventata una 5 Poi è tornata ad essere nemmeno una 2 Una 2 Una 1 Ma una e mezzo più o meno è diventata Una Playstation 1 Io sono andato ragazzi, eh Sto recuperando la capsula che ho perso Vai, poi abbiamo la UR Mi raccomando Siete alla guerra garantita voi? Sì Emmaron Va bene Trunks è del futuro R ovviamente Dici che hai trovato la UR, vai No? No, 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 no Eh no, fratello Se non la trovo perché te la devo dire? Perché devo... Vai, ci sono Allora raga, siete pronti? Vai 3 2 1 Mani al petto Sì Sassà che io Sassà che io Sassà che io Sassà che io Gohan Vecchissimo Stravecchio Ottimo Va bene, eh Raga, io ho trovato androide 18 con gli albiti di Natale Bene Con gli albiti? Cioè io penso che sia una roba più fuori posto di una parola di Joseph detta in qualsiasi momento No Ma perché? O direi della presenza di Joseph No Anche Anche Ma no Anche Io sto bene ovunque 3, 2, 1 Via Soprattutto sotto il water No Perché? O magari anche sopra Come copri water Gianfra, sei proprio un burlone Ma perché sono io? Pure Mirko Vabbè Mirko lui è sbarazzino ci sta Sbarazzino L'ho trovato o no, R? In questo video? Non mi ricordo Eccola! L'ho trovata Certo che l'ho trovata a Gogeta Da Super Saiyan Nuovo Nuovo E vabbè Ci sono Quando volete Aspetta, riattivo le hack Guardalo, guardalo le hack Ok, fatto Vai Gianfra, conta E dico 3 E dico 2 E dico 1 Via 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 Il sole Che io Salsa T Che io Non è bardak 4 punti Signori mi dicono 4 punti per caso 4 punti alla cassa No Vai Q1R 4 points ragazzi 4 points Quanto stiamo? Quanto stiamo? Goloso Mirko? No io sto a 3 sicuro Perché ho trovato il Vengiro E poi non mi ricordo Fate affidamento al conteggio sotto Molto allettante questa situazione E dico 3 E dico 2 E dico 1 E dico anche 0 Sempre il valore di Joseph Via Ma basta Gianfra te la faccio pagare Vediamo trovo 50 R nuove Eccola infatti tu sei genemba nuovo Grazie Grazie Mamma mia Gianfra Vabbè È il suo video È il suo video E mi sta bene Va bene così Ho trovato una R pure io Un punti Ah me lo fico Vabbè Bravo Joseph Io non sto capendo Ma non mi si sono Attivate le hack Dici Dici Dillo Porca p***a Che dici? Raga Devo scappare Porca p***a Porca tr***a Raga devo scappare Vai 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 Va bene Che dici Gianfra? Ciao raga Ciao ciao bro Ciao 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 Grazie a tutti.